La prima nuova Pina, l'istituto nazionale di astrofisica, che è il principale ente di ricerca architaliano per lo studio dell'universo, progetto di sviluppo, tecnologie innovativi e strumentazione della guardia, che richiede una passantica e tecnologa di astrofisica. Mercoledì 8 marzo, presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, si è tenuta una serata evento in occasione della quale sono state premiate le aziende, selezionate nel ranking del numero di dicembre del magazine Class. Tante le categorie presentate durante la serata, vivere la casa, per la salute, per comunicare, settori nei quali, secondo la redazione del mensile, è maggiore il ruolo dell'innovazione tecnologica e digitale. Il mondo del digitale, ormai la vostra vita è brutta digitale, è cambiata, si è trasformata. A dicembre abbiamo raccolto tutto quello che avevamo fatto nel 22, ed è uscito un numero che ha dato vita a questa serata, perché voi che siete qui, che siete i protagonisti di questo numero, perché classifari, come fossero tre bicchieri, noi abbiamo il gambero rosso, abbiamo il gambero rosso che dai tre bicchieri e noi oggi abbiamo invece le tre classificazioni, le tre congine rosse a chi è stato più bravo. Ambienti sicuri e stimoli alla curiosità, così è stata introdotta la categoria per educare i figli, che ha assegnato all'Istituto Nazionale di Astrofisica il premio AAA per Play INAF, la piattaforma di didattica innovativa dell'INAF nata nel 2020. È stato molto emozionante ricevere questo premio e vedere il nome dell'INAF accanto a Google, Clementoni, Satispay, Smeg, veramente tanti tanti progetti, le aziende premiate e tra queste c'eravamo anche noi, c'era INAF con Play INAF, la piattaforma di didattica innovativa dell'INAF. Grazie a tutti.